Per l'ottava volta nella mia vita ho avuto il privilegio, l'onore ed il gran godimento di suonare con l'orchestra dell'Arena di Verona. Diretta come sempre dal nostro Marco Sopiù. Alla chitarra Niccolò Bossini. Alla tastiera Luciano Ruisi. Alla batteria Marco Urbano. Alla tastiera Giuseppe Fiorini. Alla chitarra Fede Poggi Polini. Allora io voglio darvi una cosa, sapete che ci sono dei raccoglitori nelle varie uscite per poter contribuire anche queste serate a dare una mano. Per l'Abruzzo quindi chi di voi se la sente è invitato a dare i propri contributi. Sappiate però che a proposito dei conti io so benissimo in quali condizioni versiamo. Tanti parlano di un autunno particolarmente caldo e so che ognuno di voi e molti di voi vengono da ogni parte dell'Italia ha dovuto fare i conti nelle proprie tasche per poter essere qua. E la maggior ragione è il fatto che avete dovuto comprare non solo un biglietto ma casomai un viaggio, casomai un pernottamento. Questa cosa arriva forte e chiara dove dovete arrivare e per questo vi ringrazio veramente. Volevo dire che stasera siete stati al limite del pericoloso perché l'arena non voleva mica buttarla giù e costa tanto.